Con Luigi Jovene, capitano dell'Acquameno, prima di questa sfida con il Plaianum, che in realtà sulla carta non sembra essere preoccupante. Appunto, sulla carta, ma il calcio ci insegna che non sempre la squadra che sta più in alto in classifica vince. Quindi domani sarà una partita sicuramente durissima, anche perché già li conosciamo. È una squadra molto grintosa, molto fisica, che comunque ha ancora voglia di salvarsi e quindi non bisogna assolutamente prenderla sotto campo. E quindi domani, come ogni partita, sicuramente daremo tutto. Ti posso chiedere se tra molte virgolette le scorie del derby ve le siete lasciate alle spalle? Ma sì, le abbiamo già lasciate alle spalle perché comunque abbiamo fatto una grande prestazione approcita. Sicuramente meritavamo di vincere perché, insomma, lo dicono le immagini. Siamo rimasti un po' male, però noi siamo come un cavallo che non vede ai lati. Insomma, guardiamo sempre avanti e quindi avanti tutta già per domani. Il mister, questa parola, diciamo, per la prima volta, la parola playoff l'ha pronunciata proprio dopo la partita con il Procida in relazione al risultato di parità ottenuto non proprio positivo in chiave playoff. Si può dire che, insomma, guardando la classifica il LACA meno c'è? Sicuramente guardando la classifica il LACA meno c'è, però noi dobbiamo prima raggiungere la matematica salvezza e poi dopo, magari con più serenità, iniziamo a guardare sopra.